Bella ragazzi, qui Raptor Oggi sono qua col dodicesimo o undicesimo episodio della serie Road to Commander Che è logico che non mi ricordi esattamente il nome dell'episodio Perché tra il terzo e il quarto di fila che faccio un po' me li scordo Comunque 3, 6, e posso invitarne ancora uno poi basta Scusate se adesso la voce magari si è sentita un po' lontana Ma mi sono alzato in piedi perché mi prudevo da qualche parte, non so dove Ma me ne ho fatto un cazzo Quindi 3, 4, 5, 6, 7, dai 1 e 8 Spero che però invitando troppa gente mi cerchi lo stesso le partite perché sennò mi incazzo E poi volevo dirvi che adesso credo di riacquistarmi le mappe Cioè riacquistarmi, ce l'ho già acquistato però mi sa che mi si sono cancellate Le mappe di Modern Warfare 2 così uscirà anche qualche bel gameplay su Modern Warfare 2 E sulle mappe nuove Che sono un bravissimo a giocare su quelle mappe lì Non è un vanto Ma ad esempio sulla mappa vacante Avevo preso due nucleari nella stessa partita un paio di volte Poi su Strike sono un bel po' di tattiche per prendere la nucca Su Carnival pure ho preso la nucca un po' di volte Ho fatto anche la nucca con il Fal che sta già sul canale E poi l'altra qual è? Non sono 3, sono 4 Ah su Trial Park è la mia mappa preferita del gioco Tra un attimo perché ci ho preso la maggior parte delle mie nucleari Diciamo che su 490 nucca ho una quarantina e le ho prese lì 40-50 e le ho prese lì Comunque niente adesso spero che trova la partita Che come ho detto è un po' di partite che sto cercando che dovrebbe farcela trovare Ma qua ci trova solo Deadmatch a squadra di merda E spero che non abbia cacciato nessuno No nessuno ha cacciato Perfetto Skip 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 Vota 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 Dai si prego No che palle Deadmatch a squadra ancora Oltre che il punteggio di merda non dura un cazzo le partite di Deadmatch Mi occupano solo video per niente Una partita di Deadmatch su una mappa così durerà 4 minuti Durerà Secondo me durerà 4 minuti No 4 minuti impossibile il video perché Sto guardando adesso della fotocamera che sto registrando 2 minuti e mezzo sono già passati Quindi il video sarà 6-7 minuti Eh ma partono via lo stesso i minuti con i video così Però Adesso uscerò Sciacallo Pro Eh sì Sciacallo Pro Magari se l'avessi Pro Potere dal resto e Cos'è? Mira stabile Sì mira stabile E niente Adesso vediamo questo stronzo qua che nabba Sparo lì Eccolo Pam Qualti ne ho presi? 4 Perché sei forte Sei forte Power fail Sei fortissimo Voglio vedere con le armi se riesce a prendere M4 Ecco Già capito che questa qua non è una mappa per me per il role to commander Già capito E ho già capito che gli devo piantare una stessa in quella porta di merda Eh però hai rotto i coglioni Hai rotto il cazzo Sto facendo 0-3 per colpa di sti cazzoni di bastardi Guarda che mi figlia il prezzo Guarda eh Che stigato non l'ha tirato lì madonna quanto sei stigato Vorrei killarne uno state vedete com'è Una kill la vorrei fare Sì però oh Levatevi dal cazzo Tutti i compagni qua C'ho Levatevi Stai sei un camper bastardo Quindi 312 spamma come una puttana Perché è una puttana C'ho lo Wav No ma mi sa che non mi sono messo supporto allora Wav cos'è che ho Wav a varire supporto allora Dovevo togliermelo lo Wav Mi sa che c'ho Wav a varire supporto la raga Speriamo di no perché sennò Devo fare un po' di kill prima di arrivare a varire Sì no c'ho Wav Predator supporto Però magari riesco a fare una tripla dalle scale perché ho visto che sono lì Sì forse sì Tripla Multipla Porca troia E quindi adesso me ne manca pochi al supporto raga Me la devo camperare Perché adesso passeranno tu da qua Appunto Uno Due Supporto Supporto Multipla col Predator Che culo di merda Madonna Lagga Io c'ho supporta Comunque raga io vi avevo avvisato che appena sbloccavo il supporto E gli accessori giusti sulle armi Iniziava a massacrare un po' di più delle altre volte eh Perché è logico che quando inizia i livelli bassi E' così io dovrò do comandare Fatto apposta Per far vedere la gente come se la cava Ehm Quando ci avete le armi Di merda E dopo come se la cava Quando proprio si sblocca la roba giusta Infatti io faccio schifo con la roba di merda E sono bravo con la roba buona Penso come tutti credo Infatti I primi video non vedrete 30-40 kill Ma neanche in questa partita qua Perché è un deathmatch E già tanto se ne arrivo a 20 I primi video non sono bruttissimi da vedere In questo video dai Tutti là Occhio che arriva il puffo Occhio che arriva il puffo Basta spormare come i crocci Basta Ho finito le munizioni per colpa dello spam Ho giro un po' col fucile Antidolorifico Con mamma succhia Andiamo a vedere un po' cosa si può fare Antidolorifico con mamma succhia Uh un bel elicottero Me lo lascia no? Dimmi che me lo lascia no? Tronzo! Stucchiamolo Sto giocando abbastanza... Eccolo là Lo stronzo camper dentro la finestra Sto giocando abbastanza bene con l'M4 Non è una brutta arma Luca Piove c'ha il bombardiere stealth Sei un figo Ho fatto la doppia su sta mappa di merda Vabbè Comunque raga partita finita 18-8 Spero che vi sia piaciuto questo video Come del resto vi dovrebbe piacere anche gli altri Anche se non faccio punteggi di merda E vedrò nei prossimi video Anche se è in live Di insegnarvi qualche tattica Su ste mappe qua Purtroppo non ve le posso insegnare Su del match a squadra Perché i respawn si fanno a cazzo Tra niente continuate a iscrivervi Adesso metterò un paio di video in più al giorno Per farvi iscrivere un po' di più Essendo più attivo E buon Ci vediamo alla prossima Bella ragazzi